Ha rischiato di dover interrompere la sua carriera per un incidente di gioco che lo ha reso cieco all'occhio sinistro. Ora però Jan McKinley, l'asto irlandese del rugby, ha ripreso a giocare grazie a uno speciale paio di occhiali. Adesso sono cieco al mio occhio sinistra e ho detto che se voglio tornare in campo voglio giocare con protezione. Questi occhiali sono la protezione che ho bisogno per giocare in campo. Occhiali progettati da un'azienda bolognese, una storia imprenditoriale che si è sviluppata negli anni, alta tecnologia e soluzioni innovative. Sono realizzati di un materiale policarbonato, materiale di ottima qualità, fra l'altro con differenti spessori in modo da avere una correzione ottica efficace per il giocatore che l'indossa. Alcune regole del gioco del rugby impediscono di indossare materiali rigidi, quindi è in corso una grande prova a livello mondiale. Quello su cui cerchiamo di concentrarci massimamente è la qualità nella visione, perché tutto sommato spesso si ignora che fare attività a livello professionale o anche solo hobbystico, però per svariate ore richiede comunque utilizzare schermi che non diano fastidio, non provino bruciori, arrossamenti. È solo l'ultimo dei numerosi prodotti realizzati in campo ottico, come questa visiera oscurante per motociclisti, oppure gli occhiali anticondensa adottati dalla Federazione Italiana di Ski, gli occhiali galleggianti per surfisti e ultimanata una visiera montata su caschi militari utilizzati dalle forze armate in caso di sommossa che resiste ai colpi di fucile calibro 12. Alta tecnologia e soluzioni innovative, per questo l'azienda è stata scelta dall'International Board of Rugby, perché è in grado di offrire occhiali sicuri per tutti gli sport estremi.